Sì, stavo parlando con Andrea Scanzi che è arrivato e noi lo ringraziamo tanto, assai parecchio, autore dei Cani lo sanno, elogio dello sguardo all'osoterra, questo è Andrea. Andrea ha molte qualità, sa scrivere molto bene, incredibilmente giovane per sapere scrivere così bene. Andrea sta parlando di una razza speciale di uomini, io mi devo spostare, ma è un paragone molto nobile, ad una razza speciale di quadrupedi, parliamo dei Cani, i Cani lo sanno, elogio dello sguardo all'osoterra, voi direte, sembra che per leate sempre bene dei libri che presentate, una sola cosa, sono le 7.38, appena apro una libreria sotto casa vostra andate e compratevelo, punto, io più di questo onestamente non posso dire, non essendo umani ci insegnano ad esserlo, i Cani sono ancora e bussola di ciò che insegui, frenano al tuo posto, guidano quando sei ubriaco, ti riportano a casa e sono la casa. Tu hai due grandi amori, oltre agli amori della tua vita, che sono due Labrador, raccontate in questo libro con perizia e con affetto e con... Io voglio andare subito ad una pagina meravigliosa, una donna che siccome Andrea è un bel ragazzo, voglio dire, inizia una storia con lui e c'è la pagina della vendetta di queste due meravigliose quadrupedi che fanno delle cose inaudite pur di togliertela di torno. Sono molto gelose, è vero, ho due Labrador molto gelose e devo dire non hanno mai sbagliato, quando sono state un po' fredde con determinate donne poi le ho dovute dare ragione. Le hai dovute lasciare? Sì, ho dovuto lasciare loro e rimanere con Tavire Zara, con i miei due Labrador, sono delle cartine al tornasole infallibili. Perché scrivere questo libro? Perché avevo il desiderio di scrivere una dichiarazione d'amore incondizionata per i cani in generale e soprattutto per due femmine con cui convivo da 7-3 anni che mi hanno dato tanto, più di quanto io non stia dando a loro e mi piaceva quantomeno sdebitarmi. Un cane mette allegria, lo fa perché è nato strano, basso e leccante, simpatico e sbavante. Un cane fa pet therapy, anche quando non vuole. Un cane Patch Adams, il medico che ha inventato la terapia del sorriso, per chi non lo ricordasse, che non smette mai il trucco da clown. Tu sei il paziente anche quando ti pensi sano. Poche parole però, insomma, di peso, di valore. Sì, hanno questa, tra le tante capacità hanno anche quella di aiutarti in maniera estremamente discreta. Sono sempre lì e ti aiutano in ogni condizione, in ogni situazione, anche se magari non fanno niente. Però la loro sola presenza ti fa stare bene, ti fa sì che in qualche modo trovi la quadratura del cerchio. Trovi la quadratura del cerchio. I capitoli scorrono velocissimi, anche perché questo sembra più un diario canino che non un romanzo, insomma. È raccontato nei suoi punti più importanti. Tanti. Il nostro paese, poco fa parlavamo con il direttore del quotidiano.net, Xavier Iacobelli, e il nostro Pierluigi Pisa parlava proprio di quei negozi o luoghi in Firenze, per esempio, che dicono siamo dog friendly. Che cosa rende il nostro paese ancora non così avanzato nell'amare gli animali, nell'armare i cani e ne permettere ai padroni di cani, anche se poi sul concetto di padrone di cani ho da ridire, Andrea, con te, di portarseli appresso? Beh, da una parte c'è... Io credo che sostanzialmente ci sia la grande diffidenza di chi non conosce troppo il mondo dei cani, di chi non conosce il rapporto che c'è tra uomo e cane. Io ne ho due e quindi mi scontro sistematicamente con delle problematiche. Un piccolo esempio, la gran parte dei ristoranti che io ho in Toscana non accettano cani. Quando entri in un bar è difficile che te lo facciano entrare, anche se tu gli dici guarda che sono educati, guarda che non fanno nulla in particolare. C'è una grande diffidenza perché si tende a pensare che il cane abbaia, sporca, è pericoloso, c'è il cliente che comprensibilmente ha paura e quindi allora di conseguenza il padrone del locale teme che se fai entrare un cane in qualche modo impaurisce gli altri clienti. Credo che ci sia proprio una mancanza di conoscenza e di comunicazione. Chiunque ha un cane si rende conto che è naturale farlo convivere anche in contesti umani, pubblici. Però se non ce l'hai, un proprietario di ristorante, di bar, di alberghi è difficile farglielo capire. La domanda è, come si fa ad avere paura dei cani? Io non riesco a capirlo. Io non riesco a capire due categorie, chi ha paura dei cani e chi ha astemio. Sono due categorie che non riesco a comprendere. Ma è un problema mio, non riesco a capirla. Sulla stemio ovviamente qui esce fuori tutta la toscanità, no, ovviamente di Andrea Scanzi. Ancora capitoli che si susseguono. Io sono tentata da una parte di leggervi qualcosa, dall'altro di non farlo, perché credete questo è un libro davvero da... che può iniziare, ecco questa è un'altra qualità, può iniziare da qualsiasi capitolo relativamente parlando, se da un lato c'è una conseguenzialità, c'è una storia, dall'altro anche no. Allora noi interrompiamo soltanto un istante per andare con Pierluigi Pisa, perché abbiamo cercato un'offerta dal mondo web che fosse all'altezza del nostro autore. Esatto, qualcosa da mostrare ai nostri telespettatori e anche ad Andrea quando si dice una giornata da cani, no? Qualcuno ha provato a raccontarla sul serio montando una piccola telecamera su un carlino, quindi possiamo andare a vedere le immagini di questo carlino che gira per la città e riprende tutto ciò che vede e quindi osserviamo una giornata dal suo punto di vista. Eccolo. Ecco, sono ragazze belle però, eh questo carlino? Mi sa che il proprietario ha poi fatto il montaggio di... Sguardi contraccambiati però. Ecco, sguardi assolutamente contraccambiati. Ecco, però questa l'abbiamo voluta scegliere questa immagine perché il sotto o il titolo ulteriore del libro di Andrea Scanzi è Elogio dello sguardo raso terra e in effetti il mondo dei cani è questo comunque, per grandi o piccoli più o meno che possano essere di dimensione sono sempre ad una... La prospettiva è quella. Sì, la prospettiva è quella, quindi insomma dobbiamo avere sempre le scarpe pulite per esempio. Questa potrebbe essere un modo per essere molto rispettosi nei loro confronti e questa è l'idea appunto di mettere una telecamera sugli occhi di un carlino e poi c'è un cane... C'è un cane fantastico. Di strepitosa intelligenza. Sì, che riesce a giocare da solo praticamente, quindi non ha... sta su questa scalinata, non trova attenzione da parte di nessuno, allora che fa? Prende la palla e se la lancia. È stupendo però. E corre più veloce di lei per raggiungere la base delle scale e riafferrarla. È meraviglioso. E aspetta adesso però riprende la palletta. La riprende. Ecco. Vede che nessuno gliela lancia. Però poverino, qualcuno lo consideri va. Ecco, guarda, non è cosa, eccolo là. Eccolo là. Insomma, questo è ciò che sanno fare i nostri... Meraviglioso. Piccoli amici. Ovviamente c'era il padrone accanto. Però è chiaro che in quel caso li stimoli a fare... a fare quello che un cane sa fare. Cosa c'è scritto nel libro di Andrea Scansi tra le altre cose? Come educare nel modo corretto... Lo so che state ridendo a casa. So anche chi siete. Perché ci riconosciamo a vista noi che diseduchiamo i cani. Invece Andrea è stato così bravo da educare prima la la mamma. Sì. La mamma Labrador. Tu dove hai trovato la forza di tenere il tuo cane lontano dalla camera da letto? Per quanto tempo? Quando il cane era appena arrivato? Eh beh, i primi due mesi soprattutto. Come hai fatto Andrea? L'ho fatto con grande fatica perché i primi giorni soprattutto piangeva, guaiva, baiava, era faticoso. Però l'allevatore mi aveva detto che se ero duro le prime settimane avrei beneficiato in futuro di certe caratteristiche e così è successo. Sai, il mio desiderio era quello di portarmela spesso dietro con me. E allora sapevo che se cominciavo a darle il cibo da tavola, se cominciavo a farla dormire con me non potevo portarla al ristorante, non potevo portarla in hotel. Devo anche dire che lei è stata molto brava. Labrador è una razza molto docile, molto facile, tra virgolette da... Lo so che tu stai sorridendo perché l'avresti immediatamente viziata. Però devo dare dei meriti a Tavira più che a me. Sì, a Tavira più che a lui. Invece non è vero, lui è stato padrone evidentemente eccellente. Attenzione, ecco qui stanno scorrendo immagini di cani di tutti i tipi. Tra poco arriviamo al concetto del prendere il cane al canile, dell'avvicinarsi al cane che già è adulto, già è grande, che già esiste, quindi che ha perso il suo ruolo di cuccioletto e che può entrare comodamente nella nostra vita. Abbiamo sempre dei parenti ai quali lasciare il nostro cane. Molto spesso, ma non c'è nulla di personale in quello che vi racconto, succedono dei veri e propri sequestri canini, per cui il cane che hai lasciato ai parenti non lo vedi più perché se lo tengono, perché poi il cane cosa fa? Dice io in questa casa faccio una vita da cani non male e quindi pur amandoti rimane presso i tuoi parenti, genitori o altri che siano. La prima notte i miei zii provarono a seguire le mie direttive. Andrea aveva appena lasciato ovviamente Tavira e Zara dai suoi zii. Un materassino per ognuno ai piedi del letto, un accanto all'altra, aggiunsi che l'unico difetto era quello di russare. Ho poi scoperto che con loro non hanno russato mai e un po' ci sono rimasto male. Che ci credo. Ecco, il racconto degli zii è molto gustoso. È tutto vero, è tutto assolutamente vero. Sì, capisco. Non dico il finale con cui ovviamente il padrone cane, legittimamente apostrofa, il proprio cane. Perché quando vanno a casa da altri si comportano meglio di quanto non si comportino con i loro rispettivi genitori, che saremmo noi? Sarebbe bello chiederglielo probabilmente perché si sentono ancora più a loro agio nel loro habitat naturale, che in questo caso è casa mia, e perché con il tempo, per quanto io sia stato bravo, ho cominciato a fare delle deroghe, perché in qualche modo si gentilisce chiunque. Beh, ad esempio il bocconcino dopo pranzo, il bocconcino dopo cena e ad esempio il fatto che adesso entrambe dormono in camera mia. Nel loro materassino però non dormono più in cucina o in sala, ma dormono con me. C'è una giustizia. Dunque, un libro di questo tipo, I cani lo sanno, elogio dello sguardo a rasoterra, è psicologia canina o umana? Entrambe, credo entrambe. Psicologia canina, almeno è un tentativo di essere o di comprendere la loro psicologia. Psicologia umana perché c'è un po' di autobiografia e quindi comunque mi sono psicanalizzato anche nel rapporto con i cani e perché credo che chiunque ha dei cani si possa specchiare in alcune pagine di questo libro. Andrea Scanzi, che non è padrone di un cane, ma siamo noi ad avere loro come padroni? A volte sì, a volte sì. Io spero che sia un branco e sarebbe più bello, con uno dei tre nel mio caso che è capobranco. Se poi sia io e capobranco, Ottaviero o Zara, devo ancora capire. Una domanda che ci poniamo in tanti. Grazie a Pierluigi Pisa, Andrea Scanzi, i cani lo sanno, elogio dello sguardo a rasoterra. Alle 7.51 le librerie aprono all'incirca alle ore 10. Andate in libreria, anche se non siete padrone di cane, a maggior ragione, così imparate di più. Mi taccio, ci fermiamo per un istante. Grazie Andrea.